Ho preso una settimana dal lavoro per starci vicino, portarlo all'asilo, vivere la quotidianità con lui e il destino ha voluto che sono salito una settimana prima della chiusura e quindi ho dovuto prendere la decisione di or tornare a Roma o magari non vederlo per due mesi. Io sono salita su con il mio compagno il 5 marzo perché ho la seconda casa qui ma dovevamo farci inizialmente solamente quattro giorni invece lunedì c'è stata l'ordinanza quindi noi siamo rimasti qua con tre cambi di vestiti e abbiamo passato due mesi e mezzo qua completamente isolati con gli esami all'università da preparare però c'è stato il comune di Città Reale che mi ha aiutato in questa cosa e sono molto contenta perché sono riuscita a portare avanti tre esami. Io comunque lavoro in SmartWorks, da remoto anche a Roma qui fortunatamente c'è il 4G quindi la connessione non c'è mai mancata avevamo tutti gli strumenti e c'erano tutte le condizioni per poter mantenere l'attività lavorativa senza il minimo problema. Per me stare a Roma o qui era indifferente solo che qui la sensazione che hai pur vivendo in quarantena e pur essendo consapevole di quello che sta accadendo è che sei un po' più protetto quindi è un po' meno prigionia. C'è tanto senso di appartenenza perché ci vedevamo sempre l'estate quindi qua è un po' casa nostra quindi non ho avuto tante difficoltà nel scegliere perché comunque tra mio figlio e quella che sentiamo tutti un po' come casa ho avuto difficoltà certo, un po' la solitudine quella diciamo è un po' pesato perché io sono in quel paese lì, Marianitto è una frazione tutta reale ci sono 3-4 persone ma quelle poche che ci sono lavoravano nei campi quindi hanno continuato a fare la vita quotidiana quindi non si è sentito tanto comunque perché per fortuna non è arrivato il virus. Siamo rimossi qua completamente deserto non c'era nessuno però se devo dire la sincera verità è meglio stare qua che a Roma perché se penso alla mia situazione a Roma che ho casa praticamente a Torreangela è una periferia di Roma vicino a Torbella Monaca, a Tor Bergata è un appartamento quindi in mezzo ad altri palazzi sarei impazzita. La paura del terremoto? Sì, la paura c'è però penso ci siano le possibilità con la prevenzione per combatterla Tu ad agosto durante il terremoto eri qui? Sì Quindi hai sentito il terremoto qui? ero proprio qua ero praticamente qui alle tre e mezza di notte ci stavamo fumando l'ultima sigaretta per andare a casa eravamo rimaste con altre tre ragazze e ci siamo ritrovati tutti quanti insieme fino all'alba che Silvana, la proprietaria del bar, ha aperto il bar per darci i cornetti perché eravamo stati tutta la notte qua e dopodiché siamo andati su Amatrice ci siamo fatti cinque chilometri a piedi per arrivare su e siamo stati proprio in mezzo alla polvere più assoluta abbiamo dormito la maggior parte del tempo in una casa vera quindi una casa che arretta il sisma però un briciolo di paura e di preoccupazione ce l'ho sempre avuta e credo che ce l'avrò per sempre la mia ragazza è di Bricca che è una frazione che sta qui nella piana io invece sono di Città Reale, il paese dove c'è il comune e lì io ho una casetta di legno perché casa mia è un po' più danneggiata della sua quindi è meno sicura e ci siamo adeguati bene con una casetta di legno piccolina però dormiamo là, era un po' più serena perché è legno tutto questo non ti ha impedito di tornare non ti ha impedito adesso di dire però se c'è un posto dove io posso stare al sicuro e questo non è Roma assolutamente, secondo me è l'unico posto sicuro se io a Roma mi dovesse succedere qualcosa dovessi perdere il lavoro dovessi cambiare vita verrei qui, assolutamente qua ti puoi reinventare certo so che qui è difficile trovare lavoro però ci sono anche tanti incentivi per aprire delle attività e il mio pensiero è anche perché non è possibile ho provato a portare mio figlio a Roma ma non è possibile con i problemi che ho con la madre perché comunque lei abita qui e non ha possibilità di venire a Roma e forse il passo da fare che ho deciso di fare è di venire qui e provare a vivere con il mio figlio e che questo possa detto questo penso pure che queste sono le nostre case e qui abbiamo le nostre radici per cui è giusto mi piacerebbe trovare il coraggio di affrontare questa paura perché non è che ci stanno molte alternative io voglio rimanere qua oppure per i prossimi anni i prossimi weekend, le prossimi estati quindi alla fine tocca tornare prima o poi a casa se non la puoi risistemare devi cercare di sistemarla i problemi che hai poi devi tornare a casa se vuoi stare qui ti puoi fare la casetta di legno puoi fare qualsiasi cosa cioè adottare metodi antisismici per la propria casa si può continuare a stare mi piacerebbe creare un sistema che dia una mano a riportare un indotto economico di rilievo qui e anche a creare posti di lavoro perché di conseguenza e quindi un tessuto sociale economico sociale il turista sportivo medio va in Trentino perché sa che in Trentino ci stanno le montagne ci stanno i percorsi, ci stanno i sentieri ci sta l'attrezzatura c'è un sistema che funziona qui è tutto un po' più diciamo che ognuno guarda un po' più al suo orticello e ci stanno molte meno attività e meno opportunità detto questo è anche un territorio quasi vergine non esiste il turismo sportivo è pressoché inesistente quindi è anche un'opportunità e credo che se non lo fai adesso se non ti attivi adesso pure con altri ragazzi si paventava l'idea di poter di poter aprire un campeggio dando la possibilità magari il primo anno si riesce in quest'estate a chi ha la seconda casa che è inagibile di poter venire qua e ripopolarlo così perché sono convinto che magari vuole venire cioè sono convinto che vuole venire e però non ha la possibilità quindi mi piacerebbe dare la possibilità a tutti di ripopolare questo posto perché so che farebbe bene alle persone quanto tempo pensi ancora di stare qui? fino a settembre grazie a tutti grazie a tutti